Ghostbusters Legacy, benvenuti nella recensione totalmente spoiler. Wabalaba dab dab e bentornati su una mamma mazzo, bentornati nella rubrica Ghostbusters. Se è il vostro primo video di questo canale vi chiedo se vi va di iscrivervi, di mettere un bel mi piace o un non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega di condividere il video con tutte le persone che hanno visto un fantasma e commentare qui sotto di quello che viene parso di questa pellicola e se vi aspettavate qualcosa di diverso e soprattutto scrivete se mi dimentico qualche cosa perché dato che siamo nella parte spoiler recitazionistica potrei dimenticarmi qualcosa. Potrei averla vista e non dirla in questo video quindi a maggior ragione ricordatemela e ricordatela a chi guarderà questo video nei commenti. Sicuramente se farò una live su Twitch riguardo a questo film dirò tutte le cose che sto dicendo anche in questo video però ci tengo a registrarle ecco quantomeno a caldo dato che il film l'ho visto ieri sera ho già fatto un video non spoiler in cui comunque ho cercato perché poi a un certo punto ho sbagliato ho cercato di non fare nessunissimo spoiler anche perché per quanto io adoro apprezzo conosco la saga se avessi fatto un video unico spoiler sarebbe uscito di 40 minuti. Ragazzi ma dove cazzo era Slimer? Dove cazzo era Slimer? Questa è stata un po' la prima... la prima obiezione che l'amico con cui sono andato a vederlo in sala ha messo sul tavolo e effettivamente Slimer non c'è stato è pur vero che Slimer è un fantasma new yorkese quindi eravamo in... come si dice... in un posto dimenticato da Dio in mezzo all'America però ecco strano strano è molto probabile che Slimer ha messo che non sia in giro che non stia ronzando in giro perché comunque l'ultima volta che abbiamo visto Slimer a livello cinematografico era in Ghostbusters 2 quando guidava l'autobus quindi potrebbe essere libero. Se dobbiamo tener conto anche del franchise videoludico e dei fumetti dell'IDW che sono ambientati dopo Slimer era comunque contenuto nella griglia di stoccaggio però è nella teca sperimentale quindi fondamentalmente era a New York quindi può essere che sia ancora nella griglia di stoccaggio New York può essere che quella luce che lampeggiava nella scena post-credit fosse proprio la presenza di Slimer in realtà io penso che quella scena sia qualcosa di peggio quella luce che lampeggiava secondo me indicava che la griglia non ce la sta più facendo a essere contenuta che quindi i fantasmi catturati in tutti quegli anni come ha detto Ray stesso quando era al telefono con Phoebe potrebbero scappare per dare di nuovo vita a un ipotetico franchise con protagonisti magari questi nuovi ragazzi questi nuovi ragazzini cosa che potrebbe succedere solo se il film fa un successo enorme successo enorme intendo dire che supera tantissimo gli incassi scusate supera tantissimo i costi che hanno usato per fare il film e anche i costi della promozione cosa che per esempio non è successa in Ghostbusters 2016 adesso vi dico due o tre numeri giusto per pensate che questo film è costato 75 milioni di dollari che è pochissimo per gli standard attuali se pensate che un film di grande successo con poco budget è il Joker del 2019 che ne è costati 60 milioni questo è appena 75 mila anche alla luce degli effetti speciali ci sta che costi un po' di più ma davvero davvero poco se considerate soprattutto che Ghostbusters 2016 è costato 144 milioni di dollari sempre esclusi i costi di promozione di questi 75 milioni di dollari di Ghostbusters Legacy sono andato a vedere quanto hanno incassato gli attori per le scene che hanno fatto perché onestamente volevo vedere se Murray voleva fare ancora il gallo del pollaio e chiedere un sacco di soldi in realtà no in realtà no l'attrice che ha guadagnato di più da questo ingaggio è Carrie Coon che ha interpretato Kelly, la mamma di Phoebe che ha preso 2,5 milioni di dollari subito seguita da Paul Rudd che ne ha chiesti 2 milioni che credo che per Paul Rudd siano davvero pochi non ho controllato ma presumibilmente ha preso molto meno di Ant-Man che in Ant-Man e poi ci sono i ragazzini i ragazzini hanno preso di più dei Ghostbusters originali ma comunque un cachet da minorenni perché comunque a Hollywood quando sei piccolo prendi di meno ma è anche giusto così perché fondamentalmente i Ghostbusters hanno girato due scene una scena tutti insieme quando affrontano Godzer e ognuno ha avuto una sua scena Peter Winkman ha avuto la scena con Dana Barrett Ray Stenz ha avuto la scena all'occultoteca al telefono con Phoebe e Winston è nella scena in cui è insieme a Janine in cui parlano dei vecchi tempi e si vede che siccome Winston ha fatto successo nella finanza come detto da Ray nella scena precedente ricompra la caserma e la vuole riportare in auge quindi è una di queste post-credit in cui fanno vedere che con il successo finanziario di Winston si può riportare in auge l'azienda Ghostbusters da la possibilità di un eventuale seguito se il film farà successo i ragazzini Trevor e Phoebe hanno guadagnato 500.000 dollari ciascuno Podcast e Lucky invece 80.000 ciascuno anche perché comunque hanno una parte minore rispetto agli altri due mentre i nostri amatissimi Ghostbusters Bill Maher di loro Bill Maher è quello che ha preso di più ha preso 300.000 dollari che è davvero pochissimo The Necroid 250.000 Ernie Hudson pensate che sant'uomo quest'uomo ha preso appena 70.000 dollari e Dulcis in fundo Sigourney Weaver che ne ha presi 60.000 quindi meno del minimo salariale per un ruolo da protagonista per fare solo una scena post credit con Bill Murray seduta a un tavolino quindi comunque cioè volevo un attimino dimensionare anche il costo per quello che hanno fatto quindi comunque tanta roba però mi fa piacere che abbiano tutti partecipato e mi fa piacere che nessuno abbia detto sì vengo se mi dai un botto di soldi si vede che qua ognuno è stato coinvolto per amore della famiglia Ghostbusters che si è creata in questi anni anche perché Jason Reitman oltre a essere il regista oltre a essere il figlio scusate di Ivan Reitman del regista originale ha fatto anche una piccola parte in Ghostbusters 2 era il ragazzino che diceva secondo me no mio padre dice che vendete fumo e merda ecco quello è Jason Reitman e quindi comunque girava per la truppa anche già negli anni 80 quindi è di famiglia pure lui e quindi hanno accettato di ascoltare qual era il suo script qual era la sua idea per Ghostbusters Legacy comunque assenza parte di Slimer devo dire che sono stato piacevolmente convinto anche dal personaggio di Muncher mi è piaciuto davvero tanto non pensavo che un personaggio così con così poco screen time che appunto non c'è al posto di Slimer non pensavo di apprezzarlo pensavo di maledirlo e invece è stato davvero carino è stato un po' lo snaso del franchise Ghostbusters questo Muncher io voglio adesso un pupazzetto di Muncher più di quanto voglia un pupazzetto del Marshmallow Man poi è stato molto saggio da parte di Jason Reitman introdurlo introdurre un fantasma che divora tutto per poi renderlo funzionale alla trama nel finale è stata un'idea molto carina e originale che chiaramente Slimer non avrebbe potuto non avrebbe potuto fare magari nello stesso modo non sarebbe stata credibile nello stesso modo non lo so però è stato carino è chiaro che hanno tentato di fare lo stesso rilancio che hanno fatto nel 2016 con dei personaggi tutti nuovi al femminile ma totalmente sbagliati dove i character erano molto sballati soprattutto il personaggio di Melissa McCarthy e il personaggio adesso non mi viene l'altra attrice erano abbastanza interscambiabili non erano molto chiari qua invece i ruoli sono ben chiari è chiaro che Phoebe è l'erede di Egon anche perché è sua nipote ma è chiaro anche che Podcast è l'erede di Ray se non hanno anche un momento insieme nel finale dove si scopre che si seguono sui social e in quel momento è anche fantastico vedere come Podcast abbia sia completamente ricoperto di marshmallow esattamente come era ricoperto Ray nel primo film quindi proprio con solo il viso scoperto è chiaro che Podcast è il nuovo Ray se non altro per le sue conoscenze occulte mentre è chiaro che Ray scusate stavo dicendo il nome dell'attore è chiaro che Trevor e invece è la parte scettica del gruppo è Peter Venkman è quello più con i piedi ancorati a terra pur non avendo lo stesso carisma ma anche perché è un adolescente è un quindicenne quindi è un quindicenne disilluso non può avere l'umorismo sferzante di Venkman non può averlo adesso sarebbe bello se ci fosse un possibile seguito se lo vediamo sviluppare questo tipo di umorismo alla Venkman nei prossimi film e dolce se in fundo Lucky è chiaramente Winston perché innanzitutto è la più grande del gruppo quindi è anche quella che può fare più cose degli altri può guidare per esempio cosa che gli altri fanno illegalmente e poi il fatto che sia la figlia dello sceriffo della città è un po' anche un collegamento a Winston che era un ex marine anche se nel film non è mai stato detto nello script originale Winston era un marine quindi è diciamo è più ligio al dovere degli altri Ghostbusters e Lucky è questa figura mi è anche piaciuto che Lucky avesse una collanina con il nome Lucky qui per richiamare anche al personaggio di Patty di Ghostbusters 2016 che aveva la collanina col nome Patty quindi un piccolo omaggio a un film che nessuno ha gradito però ci stava comunque quantomeno per omaggiarne l'esistenza sono stato davvero colpito dal fatto che ci fosse il personaggio di Egon non pensavo non pensavo davvero Egon è presente tantissimo è molto difficile toccare il tema dell'afterlife che poi è il sottotitolo originale di Ghostbusters Legacy nel franchise Ghostbusters perché non è mai stato toccato il fatto che i fantasmi cioè si sa i fantasmi sono le persone morte che continuano a vivere come una presenza ectoplasmatica ma soprattutto quando si vedono mostriciattoli come Slimer non gli puoi affibbiare non puoi pensare che quell'essere sia stato umano sia stato vivo non riesci quindi lo vedi più che altro come un mostriciattolo e Ghostbusters ci gioca molto su questa cosa e nei fumetti lo dicono anche Egon non crede tanto nell'aldilà in senso stretto ma crede nella conservazione della materia nulla si crea nulla si distrugge ma tutto si trasforma Egon crede in questo è una visione molto laica dei fantasmi questo è l'unico film invece che comunque tocca proprio da vicino la cosa perché uno dei protagonisti è passato a miglior vita e quindi non pensavo che mostrassero Egon come fantasma e invece devo dire che non solo lo hanno fatto ma il fatto che lo abbiano fatto non mi ha fatto storcere il naso ma mi ha emozionato proprio perché non me l'aspettavo perché so come ragionano gli americani quando muore un attore davvero no vai non lo si può più nominare invece qui non solo lo hanno nominato ma lo hanno omaggiato lo vediamo in piccoli accorgimenti molto delicati all'inizio come il fatto che tenta di giocare a scacchi con la nipotina fino a poi vedere una vera e propria manifestazione a figura intera come potrebbe essere un Obi-Wan Kenobi di Guerre Stellari vediamo un Egon che aiuta Phoebe a tenere saldo il beccuccio dello zaino protonico per sconfiggere Gozer questa scena mi ha ricordato sia l'Obi-Wan Kenobi di Guerre Stellari sia Goku che dall'altilà aiuta Gohan a fare l'onda energetica per sconfiggere Cell però questo omaggio è stato davvero carino non pensavo che avessero introdotto appunto un attore chiaramente che prende le veci di Harold Ramis e sicuramente con la motion capture e con il con il deepfake abbiano gli abbiano dato le sembianze di un Egon Spangler invecchiato badate bene di un Egon Spangler invecchiato non di Harold Ramis perché Harold Ramis ci aveva messo un po' di più ci aveva dato dentro con i Twinkie come Peter disse una volta mi sono piaciute molto le scene finali con Egon fantasma mi è anche piaciuto molto vedere che non viene detto ovviamente proprio per non rovinare il momento ma Egon resta i fantasmi sono esseri viventi che restano sul nostro piano terreno perché hanno delle faccende in sospeso questa cosa non viene mai detta in Ghostbusters la dicono in Casper però è un po' d'uso comune questa cosa mi ha fatto molto piacere vedere che Egon nel momento in cui abbraccia sua figlia si dissolve e va verso il cielo come per dire che le persone buone le persone come Egon non diventano fantasmi non diventano fantasmi cattivi quantomeno come slime infatti cattivi nel senso disturbatori come slimer o come mancher ma una volta che hanno risolto le loro faccende se ne vanno in pace e mi è piaciuto molto vedere questa cosa mi è piaciuto vedere anche un momento in cui le altre capa fantasmi si congedano da Egon ho visto un Ray Stance e secondo me anche un Dan Eccroider visibilmente realmente commosso mi è dispiaciuto vedere un Bill Murray che ha detto poco ha consumato poche parole per l'Egon fantasma però se ci pensiamo è in linea con il personaggio di Peter Winkman Peter Winkman è sempre stato quello un po' più distaccato quando vede i fantasmi cerca di reagire nel modo più terreno possibile con i piedi ancorati a terra possibile quindi lo ha trattato come se lo avesse visto ah sì ciao Egon gli ha semplicemente detto è un po' me lo sentivo che saresti arrivato tutto lì magari era quello che come attore gli avrebbe potuto dire di più dato che avevano litigato nel 92 non si sono parlati per anni ma so che si sono riappacificati pare si fossero riappacificati prima della dipartita di Harold Ramis però come personaggio ci sta tantissimo che Winkman sia quello che lo tratti con più distacco mi è piaciuto vedere la visibile commozione di Ray hanno dato un momento a Winston con la Hecto 1 quando in realtà nel franchise cinematografico è Ray che è legato all'Hecto 1 è Ray che l'acquista è Ray che l'aggiusta Winston in realtà si è sempre occupato dell'Hecto come se fosse la sua bambina come se fosse un animale domestico nel cartone animato The Real Ghostbusters e lo vediamo anche nei fumetti che aiuta Ray ad aggiustarla ma non ci è tanto cioè non hanno mai dato segno che Winston sia legato all'Hecto 1 però vabbè comunque ci sta hanno dato un momento anche a Winston parlando invece di inquadrature io credo che sia dovuto al fatto che Bill Murray The Necroid e Ernie Hudson sono comunque anziani e hanno cercato di sfruttare la loro presenza il più possibile senza affaticarli troppo o banalmente per una questione di soldi non hanno fatto molti chak molte angolazioni però vuoi anche che la location della battaglia finale per quanto logica ai fini della trama non fosse epica come come nel primo film perché era comunque in un campo di grano anche a livello di altezza non c'era Godzilla in una posizione sopraelevata rispetto ai Ghostbusters di conseguenza anche l'inquadratura stessa non poteva essere dall'alto verso il basso ma è stata di un tre quarti in cui inquadravano tutti e tre i Ghostbusters con vari zoom a primo piano l'ho trovato un escamotage per sfruttare gli attori il più possibile senza affaticarli troppo senza richiedergli troppi chak e questa cosa non mi è piaciuta molto l'ho trovato come un segmento incollato in una pellicola invece che altrimenti era più fluida questa cosa non mi è piaciuta molto posso però capire che sia stato fatto per quello che sia stato fatto anche per una questione di età degli attori per una questione di di screen time degli attori perché lo screen time si paga e anche i chak ripetuti magari si pagano se non si pagano in soldi si pagano con la fatica dei protagonisti quindi hanno cercato probabilmente di stare un po' indietro peccato perché per noi è l'unica occasione è stata l'unica occasione di rivedere i nostri beniamini con con la tuta dei Ghostbusters con gli zaini però è stato anche fin troppo bello che ci hanno dato un'occasione per vederli tutti e quattro insieme con l'uniforme completa nonostante Harold Ramis non ci fosse più è più di quanto chiedessi da un film del genere parliamo un attimo di comparto audio e mi riferisco sia alla colonna sonora sia al doppiaggio italiano la colonna sonora chiaramente omaggia totalmente il primo film perché ha comunque una musicalità sempre verde rispetto magari al secondo che invece era focalizzato sulle musiche del momento e quindi ha gli stessi temi del primo film rivisitati però gli stessi temi del primo film e questo è un valore aggiunto che è piaciuto a tutti per quanto riguarda invece noi italiani il doppiaggio italiano ero molto molto impaurito per le voci dei doppiatori che per forza cambiavano perché noi italiani siamo stati più sfortunati dei fan di Ghostbusters americani perché i nostri doppiatori che hanno accompagnato il franchise nei due film nei cartoni animati e nel videogioco chi poteva sono sono venuti a mancare molto prima sono venuti a mancare nel 2008 nel 2010 e quindi non avremmo avuto le voci di Ray non avremmo avuto le voci di Peter e quindi il rischio era che le voci stonassero un po' ciò nonostante Sony Pictures Italia penso grazie anche al contributo di Ghostbusters Italia ha fatto un lavoro egregio lasciando comunque intatte le parti registrate le parti registrate del primo film le hanno praticamente non le hanno ridoppiate come spesso si fa ma hanno preso proprio la clip italiana e l'hanno messa all'interno in modo che mantenessero le voci a cui noi eravamo abituati e invece le parti nel presente con i Ghostbusters invecchiati sono state affidate ad altri doppiatori ma ci sta perché comunque col tempo la voce cambia e hanno dato delle voci azzeccatissime hanno tenuto Roberto Pedicini per Race Dance che ormai lo ha doppiato ultimamente anche in Vita Secondo Gym quindi hanno tenuto il doppiatore attuale di Dan Eccroid e hanno dato la stessa voce di Peter Winkman che c'era nel videogame anche se nel videogame all'inizio io ho faticato un po' a percepirla qua invece la vedo molto più sincronizzata diciamo con il carattere di Peter Winkman come appunto se fosse un po' maturata anche l'esperienza del doppiatore su questo specifico personaggio perché il doppiatore è un doppiatore che è controcazzi ma su questo specifico personaggio magari non era abituato quindi l'ho trovato un po' strano nel videogioco molto più allineato qua nel film nella scena finale invece devo dire che Winston non ho percepito il doppiatore dopo controllerò anche perché Winston è stato uno di quei personaggi che ha avuto due doppiatori un doppiatore nel primo film e un doppiatore nel secondo film e nel cartone animato se seguiamo diciamo quello che hanno fatto con Janine potrebbe essere il doppiatore del secondo film non lo so non ho controllato mentre ecco Janine Mellitz che vediamo all'inizio io pensavo fosse la mamma di Kelly invece no alla fine la loro la love story tra Egon e Janine non è mai sbocciata Janine è rimasta un'amica chiaramente un'amica molto speciale che ha sempre adorato Egon che probabilmente ha avuto questa figlia non si sa magari anche con una persona con cui poi non è stato probabilmente visto quanto è scienziato Egon probabilmente ha avuto una figlia magari con una scienziata per fini accademici per studiarla ovviamente poi l'ha amata l'ha apprezzata ma finisce lì ed è per questo che potrebbe aver avuto un'infanzia molto fredda che ricordi che ricordi Kelly per quanto se ne può ricordare Kelly potrebbe aver avuto un'infanzia molto fredda per questo motivo e Janine invece appunto è rimasta un'amica un'amica speciale di Egon Janine che nella sua prima battuta mi è sembrata quasi forzata questa voce nasale invece poi mi ha fatto cioè mi sono accorto successivamente che era la doppiatrice originale di Ghostbusters 2 che dovrebbe essere anche la doppiatrice del cartone animato parte finale ma assolutamente non la meno importante tutte le citazioni tutto il fanservice che hanno ficcato in questo film passando da quello più palese come l'Ecto 1 ai piccoli omini di Marshmello il fatto stesso che bruciano come è bruciato l'omino gigante di Marshmello nel primo film i cani del terrore i Terror Dog che sono Vince Clortho e Zul rispettivamente se non lo sapesse non si chiamano Zul tutte e due uno è Zul e l'altro è Vince Clortho Mastro di Chiave di Godzer Zul Guardia di Porta di Godzer Godzer interpretato da penso una modella anche a sto giro non ho riconosciuto l'attrice lì onestamente avrei preferito quasi se avessero usato il deepfake anche per la modella dell'84 perché era stato strano vedere questa Zul anche il suo a livello di effetti visivi Godzer scusate ho detto Zul a livello di effetti visivi Godzer quando non gli brilla dall'interno il corpo e quando indossa questa diciamo questa prop questa tuta è un po' più sembra un po' più cosplay rispetto al primo film nel primo film era molto più grezza e dava più l'idea di qualcosa che si era appena composto dalla roccia invece qua sembra proprio un nemico da Power Ranger aiutato molto dagli effetti visivi che la fanno la rendono luminescente e quindi ok ci sta questa cosa bilancia il costume che invece mi è piaciuto poco come ho detto prima la scena nel campo finale per quanto logica non è stata molto epica come la terrazza nel primo film specie alla luce del fatto che c'è stata comunque una formazione sotterranea di questa terrazza probabilmente quella era la terrazza originale che poi Ivo Shandor ha riprodotto a New York però ecco anche quella terrazza lì sotterranea era davvero brutta cioè sembrava proprio plasticona sembrava le plastiche che usano quando fanno le tombe provvisorie che sembrano richiamare un po' il marmo ma è evidente che sono fatte di plastica e non era per nulla imponente mi aspettavo comunque che ne so qualcosa di più imponente magari che sbucasse dalla montagna avrebbe avuto senso invece una terrazza di questo tipo di un portale di questo tipo che però resta sottoterra e resta così piccolo non mi ha trasmesso molto sembrava lì ho percepito proprio tanto il poco budget di questo film parlando invece di citazioni un po' più ricercate quando Phoebe trova la tuta da Ghostbusters del donno Egon e guarda nelle tasche e trova la carta di un dolcetto quel dolcetto è stato lo snack che Peter Winkman dà a Egon Spengler quando vedono il loro primo fantasma in biblioteca quando Peter Winkman gli dice l'hai meritato e glielo toglie quasi di mano e poi glielo dà questo è stato il primo dolcetto mentre dal cruscotto dallo sportello del cruscotto quando viene aperto si vede invece il Twinkie il Twinkie è quello che in italiano è stato doppiato come Plum Cake quando Egon usa la metafora del Plum Cake come l'attività extraterrestre scusate l'attività psicocinetica di New York in quel momento ovviamente il vestito arancione che ha la mamma di Phoebe quando viene posseduta è un richiamo al vestito di Dana Barrett ovviamente ma il fatto stesso che quando invece Gozer cerca di ripossedere un essere umano e non sceglie più la mamma di Phoebe ma sceglie Lucky questo è una citazione al fatto che nel primo film è la ragazza amata da Peter Winkman a trasformarsi in un cane qui è chiaramente la ragazza amata da Trevor a trasformarsi in un cane tant'è che poi vediamo nella scena finale che Trevor cerca di tirar fuori dalle macerie dei cani inferonali la sua la sua innamorata diciamo la sua Lucky e infatti prima di trovare Lucky trova il professor Gruberson ovviamente c'è un'ampia citazione al verso biblico che viene nominato in Ghostbusters 1 quando Winston e Ray stanno chiacchierando di ritorno da un caso sul ponte a bordo dell'Ecto 1 il 612 712 non mi ricordo tant'è che Egon Spengler ce l'ha come monito fuori dalla fuori dalla sua fattoria e Ray Stence ce l'ha tatuato sul braccio lo vediamo quando risponde al telefono dell'Occultoteca bene io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui in questo sproloquio tutto spoiler in cui ho cercato di ricordare a caldo anche tutte le varie citazioni tutte le varie cose che mi hanno comunicato nel film sicuramente mi sono dimenticato qualcosa seguitemi sugli altri miei social per esempio Instagram è quello dove potete contattarmi di più in modo che se volete si può organizzare una live su Twitch in cui ne parleremo insieme apertamente in maniera molto più approfondita molto più prolungata in maniera totalmente spoiler di questo film io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti